se sopravvive facciamo una canzone allora, ho preparato un discorso per questa canzone ma è un po' di basso intanto, anche di batteria sottofondo Maurizio non ti vedo più, ci sei? qui, 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 qui allora sono qui all'ex lignaggia allora, questa comincia così allora, voglio dire una cosa questa canzone è la canzone di David Bowie che sta molto bene addosso a Maurizio per quello che ha passato a lui per quello che ha passato a lei per questo è semplicemente di eroi Eros 1, 2, 3 2, 3 3, 3, 4 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.